Fratelli d'Italia, d'Italia, sedesta, buonasera amici dello Zaccolo Duro, buonasera Gioccolino, ma perché sei contento che abbiamo perso? Abbiamo fatto pure schifo, perché sei contento Gioccolino? Perché finalmente si parla di calcio, finalmente si parla un po' di calcio Sono contento per quello, perché almeno parliamo un po' di calcio E quindi sono abbastanza contento che si parla di calcio C'ho sto scuro, non capisco perché c'è quest'ombra Tra il cappellino, lo devo mettere così, alla Francis Francis Se non sto senza cappellino, con capelli da pazzo Allora, teniamo un cappellino, alla Francis Francis Allora ragazzuoli, parliamo di calcio, parliamo di calcio, parliamo della nazionale Allora, la Spagna è forte, è una nazionale forte, cioè ha giovani forti Questo qua, dice neanche 17 anni D'altra parte c'era Nico Williams, che è un altro che In mezzo al campo I vari Rodri, Petri Tanto gli ho visto fare un diretto a Rodri L'ho già visto Dov'è che l'ho visto fare? Io l'ho visto già fare, però l'altra volta ha segnato C'era anche bastoni C'era anche bastoni Sai chi mancava? Nel mio sogno, ho visto quel godine di Dio C'era pure Charanauro così con la bocca aperta che guardava Quasi volevo segnarsi Va bene, hai tolte le battute Però quel tiro di Rodri mi ha ricordato una di quelle godurie Godurie, godurie Va bene, parlando seriamente Non sono scemo, però parliamo seriamente Allora La Spagna è forte e lo sappiamo Non ho capito Spalletti Sinceramente non ho capito Spalletti Alla fine è vero che abbiamo preso solo un gol su Autorete Però abbiamo sofferto manco Licani Abbiamo sofferto manco Licani Che Di Lorenzo Che qua mi si dice Calabria è scarso, Calabria È forte di Lorenzo Calabria è scarso Ma se giocava a Calabria oggi faceva meglio Se giocava a Calabria oggi faceva meglio Di Lorenzo Non l'ha mai vista Mai Cioè Calabria con Bappé ha fatto un'altra partita Con Bappé No con Nico Williams Quindi A volte quando si parla Ma la domanda è Tralasciando Calabria Perché non ha giocato Darmian? Perché non fai giocare Darmian? Cioè Mi spiegate il motivo Per il quale gioca Di Lorenzo? Cioè a livello offensivo È nullo È nullo Penso di non aver mai visto superamento a campo Né con l'Albania Né stasera Quindi a livello offensivo è nullo A livello difensivo Darmian è cento volte più affidabile No? Sbaglio? No magari sbaglio Cioè Tanto stasera gli hai fatto fare 90 minuti L'hai visto Subito che era in difficoltà Perché non l'hai cambiato Che l'hai fatto correre come un padre Spero Che non l'hai cambiato Perché con la Croazia Metti Darmian Spero eh Cioè Perché non fai giocare Darmian? Non ti dico Bellanova Che è un altro offensivo Ma Darmian? Mettilo Darmian Tanto l'avevo già detto Con la Spagna Metti Cristante Non è che devi buttare 45 minuti A far giocare Giorginio Quando te l'ho detto la scorsa partita Ti ho detto con la Spagna Metti Cristante Metti Darmian Togli il moschettiere Calafiori Che anche oggi mi è piaciuto molto Lo vedo sempre più in crescita L'autorete è una questione di sfortuna Rimpalo Mi ha toccato una Roma Non ci può fare niente Ma oggi non serviva il moschettiere Calafiori Che ha quell'aria un po' da moschettiere Ti serve il guerriero Il guerriero quello grosso Il grande guerriero Buongiorno Gatti Mancini Ti serve il guerriero Non il moschettiere Perché sai che fai una partita con la Spagna Dove per 70-80 minuti La palla ce l'hanno loro Quindi non ti serve il moschettiere Il moschettiere che imposta Al massimo Al massimo Lo metti nel secondo tempo Se le cose non vanno bene Devi sbloccare il risultato Vuoi segnare Eccetera Allora togli il guerriero Il gladiatore E metti il moschettiere Non partire con il moschettiere Mettimi i due marcantoni Rimetti i bastoni al suo posto Ci metti lì Buongiorno Gatti Mancini Scegli tu quello che sta meglio Quello che lo vedi meglio E gioco così No? Cioè Ma l'ho detto la scorsa partita Non è che l'ho detto stasera Andatevi a vedere il post partita Con l'Albania Avevo già detto Con la Spagna Metti Cristante Metti dietro Il Marco Antonio E metti Darmiano Forse non l'ho detto Di Darmiano Te lo dico oggi Metti Darmiano Al posto di Di Lorenzo No? Che dite? Dico una cagata? No Ditemelo voi eh Ditemelo voi Secondo me Mi ha fatto correre Tanta gente Tanto Un po' senza motivo Perché Marella Ha corso tantissimo Anche lì Non tenevamo mai la palla Ragazzi Stasera non l'abbiamo mai vista Stasera non l'abbiamo mai Che mi ha fatto una zero E secondo me Con tre punti si passa Cioè sono Che si è già passati Vedete la verità Però Ovviamente Andiamo a giocarci Questa partita Con la Croazia Che noi dobbiamo Non dobbiamo perdere La Croazia Non sono riusciti a battere Albania Non sono riusciti a battere Questa Spagna La Croazia non è scarsa La Croazia non è scarsa Sarà una partita Molto difficile Con la Croazia Quindi vediamo di entrare Subito nell'ottica Ma meglio così Già entriamo nelle partite Dentro o fuori Anche se Secondo me Con tre punti si passa Perché ho sentito Che passano Quattro terze su sei Adesso non so Memorie e gironi Ma almeno due Che non arrivano a tre punti Ci sono Secondo me Poi vedremo Perché secondo me Non tutte fanno a tre punti Anche oggi Di Serbia Cosa Conciano un punto a testa Insomma qua Non arrivano tutte a tre punti Vedremo Vedremo Per il resto C'è stato poco da fare ragazzi Perché secondo me È stata un po' preparata male La partita Da Spallettone Stavolta Spallettone Non mi sei piaciuto Perché è stata preparata Come se noi Come se noi Ce la potessimo giocare Palla su palla E non è così con la Spagna Perché la Spagna Non ti fa mai vedere Mai E anche l'anno Quattro anni fa Quando poi Gli abbiamo battuti Mi pare rigori E siamo passati E poi abbiamo battuto L'Inghilterra Abbiamo sofferto Sì Perché comunque Loro ci hanno sempre Sto palleggio Ma loro non erano Mai pericolosi Cioè Io non ho mai avuto paura Contro la Spagna Di prendere gol Come l'ho avuta Stasera Per tutta la partita Cioè Non l'abbiamo preso Perché comunque Abbiamo fatto una partita Comunque concentrati Comunque cattivi Comunque Donnarumma Parato Comunque loro Hanno sbagliato Perché ne potevano fare Almeno tra o quattro Ma non ho mai avuto La paura di oggi Oggi sembrava Che potevi prendere gol A ogni azione E oggi Ogni azione Sembrava che potevi Prendere gol E di solito L'Italia Non è così Quindi se vogliamo Giocarci L'europeo Abbiamo visto anche oggi L'Inghilterra E poca roba La Germania Lo sappiamo che con noi Mangia sempre Wuster E non ci fa grandi cose Mi preoccupa un po' La Francia La Spagna Sì Però dobbiamo ritrovare Quella solidità Che poi avere la Spagna Nel girone Vuol dire che poi Non le incontri dopo Quindi Testa Solidità Solidità Paletou Solidità Le partite con l'Albania Metti i moschettieri Se devi recuperare Va bene Ma all'inizio Mettimi le rocce Le colonne d'Erco Che dobbiamo tenere Proprio sigillato Fatemi sapere Cosa ne pensate Per il resto Chiesa poco Secondo me è troppo lontano Dalla porta Troppo lontano Dal gioco Non dalla porta Io mi ricordo Un chiesa Molto più pericoloso Ma molto più dentro Il campo Secondo me sta troppo largo Per far entrare I centrocampisti E oggi Vabbè Oggi non c'è stato modo Comunque Oggi c'è poco Ragazzi Non l'abbiamo mai vista Non l'abbiamo mai vista Non l'abbiamo mai vista Speriamo bene Qua Croazia Perché qua Almeno fammi vedere Un po' di calcio Un po' di nazionale Che tifo Perché poi sarà un anno duro Per noi Quindi Amena Spaletto Fai bravo C'è che ricapire Darmia Cristante E Le colonne D'Ercole Iscrivetevi al canale Mettete un like E iscrivetevi Se volete L'analisi domani Se la volete Ve la faccio Se no Non ve la faccio A bene Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie.